E' stato pubblicato il bando concorso del quarto premio Gianni Oberto 2015 per tesi di laurea sulla letteratura italiana e piemontese, la cultura popolare e il teatro regionale. Possono partecipare i laureati in discipline letterarie e umanistiche presso le università piemontesi. Verranno assegnati tre premi, al primo 1.200 euro e la pubblicazione della tesi nella collana Gianni Oberto, al secondo e al terzo rispettivamente 1.800 euro.